e ciao a tutti casteldacci bentornati sul canale siamo ritornati su visage dopo tantissimo tempo allora vi ricordate che vi avevo detto per quel problema quando ho spiegato del telefono del mio vecchio telefono quando l'hanno rubato che avevo fatto l'episodio di visage però non l'avevo finito ci avevo fatto una piccolissima parte dove trovavo questo oggetto con l'ultima chiave che ho trovato nello scorso episodio adesso devo trovare la botola di cui mi avete scritto o parlato sui commenti intanto questa si apre ok e con questa botola in teoria dovrei fare il pezzo per prendere la maschera e mi avevate detto dove mi era spuntato il mostro nell'armadio e io sono andato a controllare nello scorso episodio qua poi ho chiuso perché ho dovuto chiudere e sta botola non so dove ho controllato qui che non si ci può andare sempre se questo è il punto dove mi avete scritto sui commenti poi ho controllato tutta questa zona ah c'è questa ah ok scherzavo vabbè meglio così perché mi sembra più paurosa questa parte perché mi sembra tutto al contrario vabbè ci sta nello scorso episodio dici l'ICDB si pittò ora ci scommetto che si rompe il tubo e cadiamo a terra ah no vabbè qualcosa l'ho rotta comunque buongiorno che devo fare qui vabbè sì ma vuole controllo dei fogli qua computer che si accende no no la chimica è schifo che cosa ma che devo fare non posso abbassare devo rompere il vetro eh con con quals forco fium eh sì ma non si vede un cazzo ah faccio lo cazzo sì devo rompere pure qua aspetta lo devo dire semplicemente ah mi fa che succede io ora posso andarmene che c'è la musica oh scappa devo scappare come si danno colpi di accetta prova a lasciare per aprire un varco a posto oh ma sto morendo che c'è sta succedendo ah ma niente prima ma vaffanculo dove la trovo prendi questo ma che ti serve della luce dai si ah minchia le devo controllare tutti liscio come l'olio vado e prendo no no che bello raga con questo nuovo telefono adesso posso vedermi in faccia se si bugga sul gioco è finito ok ah ora ci sento qualcosa comunque stavo dicendo finalmente con questo telefono nuovo posso vedermi faccia a faccia che nel vecchio telefono non potevo registrare frontalmente così posso vedere anche a quanti minuti faccio mentre che registro mi devi fare prendere uno spavento no per fortuna qua la posso sp... calmati minchia non appena ho spento luce spavento ma già ho finito cioè sono ritornato nel garage eh la maschera si posso ritornarci no eh la maschera qua sembra che ci sono vocezze di sangue che va bene ah devo seguire forse qua eh mi sa di si cioè ah io pensavo che già ho finito questa parte del della maschera ora mi riporto dentro l'armadio ecco perché mi avevate detto armadio o semplicemente di nuovo la botola io di sto armadio non mi fido più dove boh vediamo nella botola ah eccolo qua e un pezzo l'abbiamo cioè ma quanto mi manca adesso scusa non... quanti pezzi di maschera mi mancano? mi ho preso un volto no avvataggio non mi piace ora ti sicuramente ora che sono quasi al verso la fine della maschera mi spunta qualcuno sicuro ma non è che mi mancava un'altra videocassetta è un'altra videocassetta ad esempio qua se io non si capisce nè ok no qua non ci sta niente prima di salire voglio controllare se ci sono altre videocassette in teoria le ho tolte no? aspetta no qua forse qua è da controllare qua videocassette non ci sono e allora proviamo proviamo sopra astutati allora facciamo una cosa riposiziono tutte le videocassette qua così non mi confondo magari leggo i nomi e mi ricordo quale già ho fatto e quale no grid se non mi sbaglio l'ho fatto Pryson si pure Addiction la pure quello pure indifferenza forse è quello che ho già fatto vado a contare quante maschere ho e i pezzi di maschere equivalgono a quante videocassette ho preso tua madre ma sta telefonata non l'avevo già fatta nello scorso episodio no mincio ho lasciato l'accendina acceso non mi si scarica si comunque questa chiamata già l'avevo fatta eccolo vedete tipo i salvataggi che prendo non sono mai sicuri non so cosa mi è rimasto di prima e cosa non mi è rimasto si si almeno l'ho già sentita non so se non mi è rimasto di prima non so se non mi è rimasto di prima ti spiccio i bottoni come spicciare il cacavere un demone non mi f*** dai chiudi si ciao arriverà ci è stato bellissimo parlare con te oh che cazzo era quel rumore ahhh la maronna che mi fa scantare maria quello che è ok ok sono una due tre quattro cinque e io di videocassette in teoria ne ho cinque pryson addiction negli hands pryson comunque cinque penso che ne ho qua videocassette ci sono no qua non ho mai controllato si buh per sicurezza ah che ci ahhhh ciao affliction ok eh oh mi si stava buggando il gioco ma fanculo ti ho guadagnato maestro dai ricordi di nome strano che non so pronunciare ma che cazzo qua nooo perché si scarica subito mettiamo subito mettiamo subito oh questo episodio sta andando una bomba ah un mince lo devo indicare perfetto ah perché c'è una videocassetta forse ah è pride quindi sono una due tre quattro cinque e di queste cinque forse una non l'ho fatta non lo so e nel frattempo mettiamo questa che mi sembra abbastanza paurosa ma perdiamo mezz'ora a capire che cosa si deve fare sempre tunnel basta ma tu ci fate prima scrivermi in un commento aoooo eh tutto il passaggio che devo fare se no ogni episodio devo hai ricominciato da allora si tu ti eh piglio i po' colo eh dove sta? dove devo andare? ogni volta è questo il problema andiamocene fuori dove... cioè dovrei cercare tutta la casa al buio per giunta e dic ecco 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 Oh Ok, e di sotto non c'è nulla, controlliamo di sopra, quando sono arrivato a 15 minuti 15 minuti di ansia piccio, ma voi ve ne rendete conto Qua, no piccio non è, niente, ho controllato tutto, no c'è un posto dove non l'ho controllato Qua dentro, niente, che brutto, che brutto Ok, questo, e non lo so piccio, io avevo un Ura Kajiru, e non ho trovato niente Se il video vi è piaciuto, questo è il Dachi, scrivetemi sotto sui commenti dove io dovrei trovare il posto della maschera Perchè, veramente, ho controllato dappertutto e non ho trovato niente Ah, l'ambulanza, mamma mia E noi ci vediamo in un prossimo video, ciao a tutti, Castel Dachi